Sì, però come si tratta, sono venuti con il museo di Firenze, sono da l'Università in un nuovo contatto. Grazie. L'altra particolarità è che è tutto monitorato, quindi noi sappiamo, istante per istante, e sono posteriormente migliorative. Abbiamo contribuito del parte della Commissione per la contraria. Ma ingresso il Presidente della Repubblica. Grazie. 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 다면viare un saluto per dare un saluto ai Rettori di altri Atenei che sono presenti, un saluto al Presidente della Regione. al Ministro, con molti auguri per il suo compito, con questo mandato dedicato esclusivamente all'Università, che pone i nostri Atenei nel risalto che meritano nell'azione delle nostre istituzioni. Un saluto al Sindaco e attraverso di lui, con molta amicizia, ai suoi concittadini. È un piacere trovarmi qui a Benevento. Poc'anzi, visitando il Museo prima e poi la Chiesa in Santa Sofia, ho potuto verificare ulteriormente, toccare con mano quel che è ben conosciuto, il ruolo che nella storia e nel presente questa città ricopre nel nostro Paese. Poc'anzi il rappresentante del personale ha parlato della, e non soltanto lui, l'ho detto, è stato anche oggetto di altri accenni questa mattina, che nelle aree interne si avvertono difficoltà maggiori, come avere una posizione di svantaggio, di minor vantaggio. Per fortuna, i nuovi strumenti del digitale consentono sempre più di superare queste difficoltà. Questo significa naturalmente che le istituzioni devono assicurare un immediato, veloce, prioritario intervento che rafforzi le reti digitali nelle nostre aree interne, così decisive per il nostro Paese, non soltanto storicamente e culturalmente, ma anche sotto il profilo economico. E quindi è un piacere augurare a questa comunità gli auguri, con tutte le difficoltà che sono state evidenziate, ma con le grandi possibilità che gli strumenti moderni consentono per istituire ruolo e rilancio a tutte le nostre zone interne. Vorrei sottolineare con particolare ringraziamento quanto ha detto poc'anzi il magnifico Rettore nella sua relazione così interessante e così completa. Vorrei ringraziarlo per il riferimento che ha fatto all'esigenza di cultura. Il suo riferimento alla cultura dell'odio e della intolleranza è importante in un momento in cui il mondo attraversa condizioni particolari e incertezza che si rinnovano periodicamente ma che sono in questo momento particolarmente allarmanti. La risposta è qui, in questo Ateneo come negli altri. La risposta a queste deviazioni, a queste distorsioni risiede nella cultura, nel messaggio, nella trasmissione, nell'afforzamento di civiltà che la cultura consente e assicura attraverso i nostri Atenei. Ringrazio il Rettore anche per quanto ha detto nella sua relazione sul ruolo di questo Ateneo. Ne ha sostegnato tra i tanti aspetti interessanti che ha toccato la vocazione collaborativa, quella di collaborare con altri Atenei del nostro Paese, con corsi congiunti e con Atenei di altri Paesi. Questa apertura di orizzonte, questo sforzo culturale ampio che nella tradizione millenaria dei nostri Atenei è fondamentale per i nostri giovani, per il loro orizzonte, per la loro preparazione. Ne ha parlato poc'anzi anche il Ministro, sottolineando la vocazione internazionale che devono avere gli Atenei, che hanno i nostri Atenei. C'è un triste episodio di questi giorni che sottolinea l'importanza della comunanza di studio che attraversa le frontiere. Tutto il mondo dello sport, ogni parte del mondo, in ogni continente, era attristato dalla morte di Kobe Bryant, con una tristezza che ha il fondamento non soltanto per la sua capacità, la sua popolarità, ma per il nostro Paese, perché si era formato qui, nelle nostre scuole elementari e medie. È la comunanza di studi, è quella che lega davvero al di sopra e molto di più dei legami politici, istituzionali ed economici che lega l'umanità attraverso i suoi confini. E in questa stagione, ripeto, di incertezze internazionali, la comunanza di rapporti umani che si crea attraverso gli studi in comune è l'antidoto ai pericoli che attraversa la comunità internazionale. Per questo questa vocazione che il Rettore ha sottolineato che questo Ateneo interpreta è davvero di particolare importanza. Vorrei anche sottolineare una frase che ha detto, un concetto che il Sindaco ha espresso sul procedere in questa stagione in maniera nell'incertezza, nel dover affrontare le difficoltà che si presentano ogni volta diverse, in momenti differenti. Questo naturalmente è pienamente compatibile, richiede una visione però di orizzonte, una visione lucida per il futuro. E questa visione è emersa quest'oggi, qui in questo Ateneo, in questa bella formula di far fare tante diverse, brevi lezioni magistrali, alcuni ricercatori. Io vorrei ringraziarli. Ci hanno presentato un quadro all'ingegnere Sofia Principe, il dottor Ruzza, il dottor Scarano. È l'ultimo ricercatore che ci ha illustrato così bene questo versante importante dei legami tra economia e diritto. ci hanno illustrato, ci hanno presentato una realtà di profondità di ricerca, di capacità di elaborazione, che peraltro avevo già visto poc'anzi, prima di entrare in questa sala, per la cortesia del Rettore, con l'illustrazione da parte del professor De Rossi di una realizzazione di ricerca scientifica di questo Ateneo, un edificio a consumo energetico zero, che costituisce oltre che un messaggio di possibilità di questo percorso, anche una dimostrazione di avanzamento della capacità di ricerca di questo Ateneo. Ecco, i quattro ricercatori ci hanno indicato un percorso in tanti e diversi settori di approfondimento, di ricerca. Io vorrei sottolineare tre elementi che emergono dai loro interventi. Quello del livello, appunto, di capacità di approfondimento, quello della interdisciplinarietà, che certamente, come due di essi hanno detto, si collega in qualche misura anche alla dimensione raccolta di questo Ateneo, ma che in realtà è una stata obbligata per qualunque università, che si diffonde sempre di più, recuperando il senso della unicità del sapere in tutti i nostri Atenei e non soltanto nei nostri, ma in tutto il mondo. Le interazioni che sono state indicate nel primo intervento tra medicina, ingegneria, chimica, biologia, sono evidenti. E' apprendere che vi è in fase di realizzazione un prototipo che consente di agnosi e cura tempestivamente in quel settore così rilevante per la nostra convivenza, che quello oncologico è davvero molto importante. Così come l'interrelazione tra geologia e elettronica per monitorare eventuali rischi di frane. O quell'interessante intervento che abbiamo ascoltato sull'utilizzo di quelli che sono erroneamente definiti scarti del ciclo agroalimentare, indicando così due strade, sottolineando due grandi valori. Quello del riutilizzo delle materie prime e seconde, come è giusto dire, come è stato ricordato, è quello di un'economia sostenibile sempre di più e dall'altro di come a questo si abbini una quantità di risorse economiche. Questo è un elemento che va sottolineato e che per fortuna l'Unione Europea sta sottolineando con grande efficacia, dando in questo senso un indirizzo esemplare a tutta la comunità internazionale. L'economia sostenibile e farsi carico del limite e delle esigenze di difesa del clima non sono un freno all'economia, al contrario stimolano risorse e sono un motivo di crescita per l'economia. Così come infine il rapporto collaborativo di intersecazione che vieta diritto ed economia. Tutto questo ha dato di questo Ateneo, con questi quattro interventi, queste quattro relazioni, il senso pieno dell'attività universitaria. Approfondimento, trasmissione di cultura, indirizzi ed è l'ultimo elemento che vorrei sottolineare le conseguenze di arricchimento economico e di crescita e questo comporta. Quando l'ingegnere Principe ci ha detto che da questo deriva, o può derivare, deriverà certamente una sollecitazione imprenditoriale, deriverà certamente una formazione di personale altamente qualificato, deriverà quindi crescita, sottolinea il ruolo che la cultura e le università esercitano per la crescita economica, sociale e civile del nostro Paese. Ed è la risposta a quello che si è augurato lo studente, Gabriele Uva Pocanzi. Pure fermia il suo auspicio. Un triplice obiettivo indicato alla fine, se non ricordo male. Quello di una università, questa come le altre, che sia centro di elaborazione di cultura, di conoscenze e quindi di crescita, di benessere. Quello di un Paese che garantisca l'ambiente e i diritti. Quello di un mondo che garantisca libertà di tutti, singoli e popoli. E con questo augurio così interessante che faccio mio, rivolgo gli auguri buon accademico a questo Ateneo. Grazie, Presidente, per le gentili e commoventi parole che usate nei confronti del nostro Ateneo. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2019-2020 della Università degli Studi del Sannio. Ventiduesimo dalla sua istituzione. Grazie a tutti.